Anche la protezione civile di Monfalcone è stata allertata in vista della prossima missione nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto. Il sindaco di Monfalcone, Silvia Altran, è in costante collegamento con la sede comunale della protezione civile. I nostri volontari saranno impegnati in un prossimo turno di aiuti, spiega, e in quell'occasione saremo in grado di capire come coordinare anche sul nostro territorio una raccolta di beni da destinare alla popolazione. Invitiamo comunque chiunque abbia intenzione di organizzare iniziative o voglia in qualche modo dare il proprio contributo a contattare la protezione civile alla mail coordinatore chiocciola protezionecivilemonfalcone.org In questo modo saremo in grado di indirizzare gli aiuti in un modo puntuale e far sì che siano direttamente destinati alla popolazione.